Quindi darei subito la parola a Giovanni Cerchia, storico, professore ordinario di storia contemporanea all'Università del Molise. È uno studioso che ha lavorato molto sia sulla storia del PC, sia sulla storia del Mezzogiorno e ultimamente sul periodo della guerra e del dopoguerra. È stato biografo di Giorgio Amendo e di Gerardo Chiaromonte, quindi due grandi figure del PC nel Mezzogiorno, ma anche naturalmente sul piano nazionale e quindi gli darei subito la parola. Io vi ringrazio, ma le cose che diceva Paolo sono con evidenza la dimostrazione tra l'altro di un tema, di un noto che sollevava Alex Ebel prima di darmi una parola, cioè che noi abbiamo a che fare con una straordinaria personalità come quella di Pietro Paolo Broccoli, che come un'altra grande personalità del Partito Comunista di Caserta, Giuseppe Capobianco, mettono insieme questa capacità di raccontare solo nel derelato se stessi. I loro fondi documentali, che sono ricchissimi, che sono indubbiamente centrali anche tra i fondi documentali che si occupano di questo periodo, che sono depositati verso l'archivio di Stato di Caserta, in realtà sono uno spaccaro straordinario sulla vicenda collettiva di questo territorio, un territorio complesso, denso di contraddizioni e sono, e su questo tema vorrei soffermarmi più che su altro, anche strumenti imprescindibili per ricostruire una vicenda altrettanto tribolata come quella del movimento dei lavoratori di questa provincia, una provincia che è stata a lungo addirittura la più grande d'Italia, che è stata soppressa dal fascismo, sempre in bilico, peraltro, e poi dirò, proverò a dirvi per cosa c'entra, per cosa colpisce questa considerazione, poi con invece il carattere del contributo, diciamo, che Pietro Paolo Broccoli ha portato allo stesso tempo, anche se con mille diversità si potrebbe dire la stessa cosa di Giuseppe Capobianco, diciamo una provincia sempre in bilico tra originalità anche delle proprie contraddizioni e una eterodirezione, se vogliamo, decisioni fondamentali che venivano prese sul suo destino, assunte fuori da questo territorio, dato eclatante della stessa soppressione della provincia del 1927, ma per quanto riguarda il movimento socialista, ancora prima della Prima Guerra Mondiale, è una provincia dove, per esempio, non si vive lo stesso fenomeno napoletano delle liste bloccardi, da quella confluenza rispetto alla quale poi reagì un giovane Amadeo Bordiga, fondando il circolo Carlo Marx, che dipende poi a un incubazione dell'esperienza che lo porterà successivamente ad essere il principale fondatore del Partito Comunista di Italia, sezione della terza internazionale, così come era chiamato. In provincia di Caserta, in terra di lavoro, non ci fu quell'esperienza, ci fu una radicalità socialista autottona che porterà, pensate, nel 1912, prima, diciamo, in preparazione del congresso di Reggio Emilia, quello dove Mussolini diventerà direttore dell'Avanti, all'espulsione di tutto il gruppo riformista guidato da Beneduce. Dopo la Prima Guerra Mondiale, questa cultura è agganciata quasi naturalmente, questa radicalità autottona è agganciata e molto influenzata dalle parole e dalla capacità di direzione politica di Bordiga, si inserisce in maniera forte nel processo di fondazione del nuovo partito, del Partito Comunista, ovviamente dentro un quadro di estrema debolezza. Nelle elezioni precedenti, la scissione del 21 nel 1919, mentre in Italia il Partito Socialista è il primo partito, in provincia di Caserta è il quarto, con, se ricordo bene la percentuale, qualcosa come intorno al 9%, davanti a sé alla stragrande parte delle forze liberali che sono ancora assolutamente egemoni nel Mezzogiorno, è sovraavanzato anche dal Partito Cattolico. Quando nasce il Partito Comunista è figlio anche di questa debolezza, insomma, oltre che della cultura politica bordighista che lo ispira, che in qualche maniera lo influenza, è uno dei primi elementi che sono stati sollevati, grazie alla documentazione a nostra disposizione, grazie soprattutto a coloro che hanno conservato queste tracce nel nostro passato e gli archivi, e quello che emerge è una difficoltà di radicamento organizzativo. Nel 1921 nasce un primo segretario che si chiama Selmi, che verrà cacciato nei fatti dell'estate del 21, perché pare che sia stata presentata nelle elezioni del maggio del 1921, le elezioni politiche nazionali, una lista non autorizzata dalla direzione nazionale, quindi nei fatti il Partito Comunista a Caserta non presenta nemmeno una lista nelle elezioni del 1921, riuscirà a presentarla soltanto nel 1924 prendendo il 2% ed eleggendo un parlamentare. Dopo Selmi, la segreteria di una giovane donna come Maria Lombardi, ma anche Maria Lombardi dura molto poco e è un fallimento, siamo già nel maggio del 22, di questo secondo mandato in qualche maniera segnala anche l'esaurirsi di una fase di influenza bordichista. Nel 23 il Partito Comunista a Caserta non ha neanche un iscritto, per dire. Questa breve premessa, la sto facendo una ricognizione, mi perdonerete, insomma la quanto più sintetica possibile per arrivare al punto, porta già a un primo elemento di ricostruzione che nasce da una sorta di, tra virgolette, interferenza dall'esterno. C'è una direzione nazionale del PC che utilizza l'ingresso della diaspora socialista, della seconda ondata socialista che arriva nel corpo del Partito Comunista, che è il gruppo di Serrati. La provincia di Caserta significa fondamentalmente marasco da una parte, ma ha corrato Grazia Dei dall'altro, Sesto Grazia Dei ne assumerà la leader, attraverserà con questo gruppo tutta la lunga notte della dittatura, esperienze anche importanti da una certa fase in avanti. La provincia di Caserta sarà interessata da una ricostruzione di una trama sovversiva negli anni stessi della guerra civile spagnola, poi l'esperienza del proletario e poi il passaggio della guerra dopo il 43 con tutti i drammi, i lutti che soprattutto la storografia più recente ha saputo raccogliere. E infine la riorganizzazione. E ancora qui la crisi, dopo la seconda guerra mondiale, Grazia Dei viene messa in discussione perché non riesce a rappresentare questo corpo che si rimette in campo e la decisione della direzione nazionale del PC di mandare per lungo tempo proprio i uomini dall'esterno a ricostruire questo partito. Da De Andreis ad Attilio Esposto fino ad arrivare, lo citavo prima Paola Broccoli, alla lunga segreteria di Giorgio Napolitano che dura dal 1951 al 1957, che è quantomeno una segreteria campana, un napoletano che è mandato a farsi le osse in provincia di Caserta, anche se nella autobiografia di Napolitano, quella del 2005 pubblicata dall'ala terza, i giudizi su quella frase da parte dell'ex presidente della Repubblica sono quantomeno ingenerosi, ma questo meriterebbe una riflessione a parte. Perché questa premessa? Pietro Paolo Broccoli si iscrive al Partito Comunista dopo il 1956, si iscrive quindi al Partito Comunista nella parte terminale della segreteria di Napolitano, pur appartenente a una generazione diversa da Capobianco, infatti la loro documentazione che è varia, complessiva, interessante in generale, però ha focus differenti, dalla parte quella di Capobianco è particolarmente interessante sul tema anche della guerra, dello stragismo, ha avuto una funzione nazionale rilevantissima in questo quadro, su questo nodo, quella di Pietro Paolo Broccoli è altrettanto rilevante sul punto della modernizzazione della provincia di Caserta, due generazioni politiche diverse e sono, è quello che mi colpisce, mi ha sempre colpito, sono due straordinari dirigenti autottoni dentro il quadro di un partito che ha avuto difficoltà ad affermare la propria autonomia di direzione, la preoccupazione di in qualche modo di predisporre una riflessione sulla memoria affinché il patrimonio di questo percorso compiuto dalla provincia, dalle forze politiche, in particolare dalle forze politiche della sinistra legate al movimento dei lavoratori, il movimento contadino, il movimento operario viene, è un carico che viene assunto da i due principali protagonisti, pur appartenendo appunto a momenti diversi, di un radicamento, di un rilancio, di una presenza autottona del gruppo dirigente di questo partito in terra di lavoro, come prima questione. L'altra questione che andrebbe indagata, io non vengo sui temi che Paolo ha già affrontato, su cui sta continuando a lavorare, che mi ha fatto piacere conoscere fin dai tempi della sua tesi di dottorato, con la sua approfondita indagine soprattutto sui temi della modernizzazione economica, però sarebbe interessante prima o poi ragionare anche in termini di biografie di questi personaggi, insomma. Il Pietro Paolo Brocchi è un giovane intellettuale che si iscrive al PC dopo il 1956 in perfetta controtendenza con quanto accade nel resto del paese, dove invece il PC perde 200.000 intellettuali, pur conservando più o meno gli stessi voti, nel 58 prende gli stessi voti, poco più del 22%, insomma, rispetto al 53, però perdendo, dal punto di vista qualitativo, anche quantitativo, 200.000 iscritti non è cosa di poco conto, però perdendo molta, una grossa parte del proprio patrimonio di idee e di intelligenze. Accade sul piano nazionale perché appunto c'è stato il 56, il terribile 56, dalla denuncia dei crimini di Stalin e poi soprattutto i fatti prima di Polonia e quindi di Ungheria. Nel mezzogiorno è un fenomeno che è in parte attenuato dal fatto che è un tessuto in costruzione, più debole rispetto, se vogliamo, ad altri anni del paese, ma anche l'impressione che le modalità con le quali questo partito costruisce un proprio radicamento nel mezzogiorno, attenuano in gran parte il richiamo e il giudizio su vicende, su vicende di, non dico di quadro internazionale, ma che hanno molto a che fare con l'articolazione ideologica di una riflessione e che invece è molto più inserita sulle contraddizioni concrete, sulle lotte concrete che si stanno svolgendo su questo territorio. Non a caso Pietro Paolo Broccoli sarà immediatamente impegnato nel percorso dell'occupazione delle terre, del mondo contadino, avrà anche ruole e funzioni sindacali estremamente significative ancora prima delle funzioni istituzionali. Quindi stiamo parlando di una personalità e anche di un patrimonio documentale che ha messo a nostra disposizione di grande interesse per tutte queste ragioni. per lo sguardo complessivo su un momento decisivo della vita della provincia di Caserta e del mezzogiorno più in generale e anche, mi permetto di dire, per lo spessore della stessa personalità di Pietro Paolo Broccoli, quella vicenda emblematica, se volete, epitome di una parabola più generale di una generazione in un quadro difficilissimo come quello della provincia di Caserta. Per questo motivo, come dire, ben venga una nuova stagione e anche una capacità di avere maggiori strumenti per valorizzare questo patrimonio documentale e che sia anche un'opportunità magari per chiamare a raccolta e tessere le fila, per rimettere in piedi una rete con il lavoro che sta facendo il Gramsci, insomma, l'ambio, la rete archivistica di raccolta documentale che sta conviendo in tutta Italia ma anche nel mezzogiorno, e in questa provincia recuperare un po' di materiale che nel corso del tempo è andato disperso. Quando il Partito Comunista si è sciolto e, diciamo, gran parte di questa documentazione è andata perduta, una parte però è stata recuperata, alcune cose sono state, sono conservate ancora oggi da privati. Io personalmente le carte ricordate grazie a te, sarebbe il caso che grazie all'iniziativa che si sta compiendo per una maggiore sistemazione e, come dire, fruibilità del fondo Broccoli, si aprano spazi che ci permettano di poi far confluire anche altra documentazione che non può che aiutare la ricerca storica sicuramente, ma anche il recupero di una memoria che è un grande valore per la cultura civile, democratica di questa provincia e del nostro paese più in generale.